Se di fronte a una donna che si chiama Asia Bibi e che voglio vedere il cui nome voglio sentire pronunciare in quest'aula, che è ferma da quattro anni in un carcere perché cristiana in Pakistan, non c'è l'Europa che si indigna, non vuol dire che noi non stiamo corrispondendo alla nostra chiamata, al nostro destino. Se di fronte alle ragazze rapite in Nigeria da un gruppo fondamentalista che sta rapendo quelle ragazze per il solo fatto che vengono educate ai valori occidentali, se non c'è la reazione dell'Europa, se non c'è la vostra reazione, se non c'è la nostra reazione, non possiamo definirci degni della grande responsabilità che abbiamo. Se di fronte a una donna, Miriam, che partorisce in Sudan in carcere per la sua fede o alle ragazze della primavera araba, noi continuiamo soltanto a utilizzare frasi fatte, slogan vuoti, parole retoriche, continuiamo a rinchiuderci nelle nostre frontiere senza avere il coraggio di affermare i nostri valori, noi non andremo da nessuna parte e noi perderemo la dignità del nostro essere politici europei.